Nel video di oggi vi parlo di fotografia notturna. Andiamo a vedere qualche trucchetto per catturare al meglio la luce durante le ore più buie. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia da tanti anni. Mi è già capitato di fare fotografia notturna in vita mia, per cui nel corso di questo video vi porto sia la mia esperienza in ambito di fotografia notturna, sia una piccola novità per andare a migliorare ulteriormente le nostre fotografie. Prima di cominciare colgo l'occasione per invitare tutti quelli che non l'avessero ancora fatto è iscriversi cliccando il bottone qui sotto. In questo modo rimanete aggiornati su contenuti come questo, piuttosto che recensioni di strumentazione, piuttosto che critiche costruttive dei portfolli che mi sottoponete. Cominciamo col dire che quando facciamo fotografia notturna dobbiamo essere consapevoli di un po' di cose. La prima cosa, sarà più difficile scattare piuttosto che durante le ore di urne. Abbiamo meno luce e la nostra macchina fotografica farà più fatica. Quando la nostra macchina fotografica fa più fatica a catturare la scena, significa che se noi aumentiamo i valori ISO avremo un'immagine con più rumore, perché aumentare la sensibilità comporta un'immagine più rumorosa, un'immagine con meno gamma dinamica, quindi generalmente potremmo dire che all'aumento dei valori ISO corrisponde una caduta qualitativa del nostro file. Per cui è una cosa che vogliamo evitare quanto più possibile. L'altra cosa che possiamo fare è aumentare il tempo di posa. Se io faccio la foto, clic, avrò un certo tempo di posa e quindi catturerò una certa quantità di luce. Se io aumento il tempo di posa, clic, 1, 2, 3, 4, 5 secondi, clac, a quel punto ho catturato più luce. Scattare con dei tempi di posa lunghi è essenziale di notte, perché così riusciamo a mantenere i valori ISO bassi e quindi avere una bella qualità d'immagine e abbiamo comunque la nostra fotografia esposta correttamente e a quel punto usiamo anche il diaframma che vogliamo, perché tanto per scattare con tempi di posa superiori al secondo dobbiamo sempre comunque utilizzare un treppiede. Quindi queste sono le regole auree per fare una buona fotografia notturna. Che cosa succede se non abbiamo il treppiede? Beh, succede come detto che dovremo aumentare i valori ISO e aumentare i tempi di posa con il rischio di avere fotografie rumorose e avere fotografie mosse. Francamente lo sconsiglio. Inoltre c'è anche da considerare un altro fattore, ovvero durante la fotografia notturna personalmente una delle cose che trovo più appaganti in assoluto è chiudere il diaframma per avere le stelline sui punti luce dei lampioni. Questa è una cosa molto bella, però chiudere il diaframma di notte significa avere ancora meno luce e quindi treppiede obbligatorio. Ovviamente il treppiede deve essere quanto più stabile possibile. Se abbiamo un treppiedino di quelli entry level di plastica è possibile che a ogni minimo movimento, ogni volta che tocchiamo la macchina per farla funzionare, ogni volta che spostiamo il peso, magari se siamo come è capitato a me ieri sera, io ero su un prato, se sposto il peso magari il terreno si assesta e posso andare a muovere il mio treppiede. Quindi è molto importante avere un treppiede stabile, robusto e pesante. Me la sentirei di consigliarvi la visione di un video che ho pubblicato di recente, vi lascio la card qui sopra da qualche parte, video in cui andavo a recensire proprio un treppiede che potrebbe essere adatto allo scopo, che era di KNF Concept. Parlando di KNF Concept è il momento di farvi vedere un prodotto che mi è stato gentilmente inviato dalla casa. Questo è il filtro Natural Night. Ne abbiamo già parlato in uno shorts, a proposito io sovente pubblico degli shorts per cui vi invito nuovamente a iscrivervi così non ve li perdete. Ne abbiamo già parlato in uno shorts e KNF Concept mi ha mandato ben tre filtri e qualcuno di voi, più di una persona se ricordo bene, mi ha chiesto di partire da questo perché è quello che vi interessava un po' di più. Questo è un filtro pensato apposta per la fotografia notturna. Quindi quanto ho detto finora è valido, io ho sempre fatto fotografia notturna senza questo filtro. Però adesso andiamo a vedere come possiamo rendere più interessanti le nostre fotografie con l'utilizzo di questo dispositivo. Io non li vedo da tanti anni i filtri Natural Night, li ho visti comparire un po' di tempo fa, magari ci sono sempre stati, ma secondo me sono abbastanza una novità. Quindi adesso andiamo a vedere le fotografie che ho realizzato ieri sera e andiamo a vedere com'è la resa di questo filtro. Molto bene, eccoci qui all'interno del mio computer. Come potete vedere qui abbiamo una serie di fotografie che ho scattato durante la notte in maniera tale da poter fare un confronto. Vedremo le foto scattate senza il filtro di KNF Concept e poi la foto scattata con il filtro. Partiamo da una foto scattata senza filtro. Questa era un'immagine di prova, infatti non è niente di che. Questa è senza filtro. Andiamo a vedere cosa cambia nel momento in cui introduciamo il filtro. Vedete? Così è senza, così è con. Notiamo subito che c'è una differenza cromatica, nel senso che il filtro ha tagliato fuori tantissimi gialli. Le luci, come potete vedere, questo colore è abbastanza fedele a quello che vedevo io con i miei occhi. Le luci che illuminavano la scena contenevano tanta dominante gialla. Questo filtro è andato a rimuoverla e è andato a rimuoverla secondo me abbastanza efficacemente perché abbiamo la scena che si preserva nella sua naturalezza. Abbiamo tolto un po' di quella radiazione luminosa gialla che è molto artificiale. Quindi in questo senso la casa intende Natural Night, nel senso che vi rende più naturale un paesaggio urbano andando a togliere un po' di dominante gialla. Andiamo avanti e questa secondo me nuovamente è scattata col filtro e questa è scattata senza filtro. Vedete che c'è una dominante notevole nelle fotografie scattate senza filtro che va a essere eliminata nel momento in cui lo usiamo. Ora qui, qui se ricordo bene, esatto, qui mentre facevo le fotografie vedete che è entrata in funzione la fontana, quindi mi sono mangiato le mani e ho ricominciato da capo. Qui abbiamo la fotografia scattata senza filtro. Per la cronaca stiamo scattando a ISO 100 f8 f9 25 secondi di posa, quindi una posa abbastanza lunga. Vediamo la fotografia scattata senza filtro e qui vediamo la fotografia scattata col filtro. Andiamo a vedere gli alert per le luci bruciate. Come potete vedere io qui ho fatto un minimo di recupero digitale, ho fatto un minimo di sviluppo, quindi qui riusciamo ad avere due immagini senza perdita di dettaglio sulle alte luci, cosa che secondo me è una fotografia di questo tipo è assolutamente essenziale. Vedete come migliora globalmente la resa? Vedete che nel momento in cui abbiamo la fotografia senza filtro, certo possiamo sistemarla dopo in post produzione, però così abbiamo la fotografia già pronta, già con una resa ottimale, abbiamo scremato un po' di frequenze luminose che non voglio andare a definire parassite, però certamente non sono belle, non aggiungevano bellezza al nostro scatto. Andiamo a vedere la foto successiva e io qui sono abbastanza sicuro che questa sia scattata col filtro e infatti questa è scattata senza filtro. Vedete la differenza? Certo è una modifica che io potrei fare in post produzione, però nel momento soprattutto nel momento in cui andiamo a scattare tante foto è molto meglio averle già pronte direttamente in macchina e cosa ancora più importante non abbiamo toccato la temperatura colore perché quella potremmo volerla usare in maniera creativa quindi bilanciamento del bianco, tinta e temperatura possiamo usarle per fare altro perché la fotografia è già giusta grazie al nostro filtro. In questo caso nuovamente ditemi voi cosa ne pensate fatemelo sapere in un commento a me sembra nettamente migliore la fotografia scattata con il filtro mi sembra che a livello cromatico sia nettamente migliore. Andiamo a vedere un altro esempio qui abbiamo fatto una panoramica più ampia vedete così è chiaramente col filtro e così è senza lo vediamo proprio dai gialli e per quanto riguarda il filtro io trovo che introduca anche io lo vedo violetto secondo me introduce un po' di violetto il che va bene può essere una cosa assolutamente gradevole in questo caso mi porta anche fuori la naturale luce violetta che stava dentro nel getto principale della fontana. Andiamo a parlare proprio della fontana e vediamo la fotografia con il filtro vedete come sono attenuate le luci e andiamo a vedere senza filtro vedete quanti gialli vengono fuori anche nel primo piano anche nelle due cuspidi di pietra sul primo piano vedete quanto giallo era stato tolto. Nuovamente andiamo a vedere questa è la fotografia scattata senza il filtro e questa è la fotografia scattata col filtro vedete che togliamo tantissima dominante cromatica gialla qui stessa cosa vedete così e col filtro vedete che tende al magenta togliendo il giallo è rimasto tanto magenta nel momento in cui togliamo il filtro vedete quanto giallo viene reintrodotto qui abbiamo la fotografia senza e con una piccola nota personale se guardate qui in basso a sinistra quest'angolino in basso a sinistra vedete che c'è un po' di vignettatura vedete qui la vignettatura non c'è e qui invece la vignettatura compare questo è dovuto semplicemente al fatto che io ho montato il filtro di knf concept sopra a un filtro nd che avevo già montato sul mio obiettivo quindi questo questa vignettatura è colpa mia normalmente un filtro solo non produce questo tipo di vignettatura siccome io sono stato pigro e ho montato due filtri uno sopra l'altro mi sono beccato un po' di vignettatura queste foto sono di esempio le ho fatte per per fare questo video e sono andato lì apposta quindi non lo reputo un problema però sappiate che il filtro di knf non produce questa vignettatura normalmente dipende solamente dal fatto che io sono stato pigro e ho montato il mio filtro sopra il filtro che avevo già montato sull'ottica bene ma ora torniamo in studio per le considerazioni per chi è questo filtro e a chi lo consiglio questo filtro viene promosso per fare fotografia notturna quindi se ne parla anche per fare astrofotografia nel senso che può ridurre l'inquinamento luminoso nel momento in cui stiamo facendo fotografia delle stelle una stellata un'arcata una via latte a qualsiasi cosa sicuramente può servire ad attenuare l'inquinamento luminoso ovviamente come avete potuto vedere io ho scattato a milano non c'è una stella in cielo neanche a pagarla ma questo perché a milano le stelle non si vedono quindi questo filtro non fa miracoli ovviamente non voglio raccontarvi che se prendete questo filtro lo montate davanti alla vostra ottica poi scattate la via latte a in piazza del duomo perché così non è sicuramente può aiutarvi nel momento in cui avete una bella stellata che si vede bene in un contesto che vi permetterebbe normalmente di fotografare le stelle se mettete questo filtro andate ulteriormente a escludere radiazione luminosa indesiderata anche se personalmente lo trovo molto più interessante per fare fotografia notturna in un contesto cittadino perché come avete visto andando a ridurre la radiazione luminosa di certe fonti luminose in particolare andando a tagliare molti gialli questo filtro può avere due effetti che mi interessano particolarmente il primo è quello di attenuare le luci dei lampioni banalmente quindi nel momento in cui io faccio fotografia notturna ottengo due cose la prima è che elimino la dominante cromatica di certe luci che potrei non volere sono decisamente più belle le foto con il filtro che senza come avete potuto vedere la seconda cosa che ottengo è che vado a ridurre l'intensità di certi punti luce quindi nel momento in cui ho dei lampioni magari molto violenti che bruciano i dettagli con questo filtro vado ad agire solamente nelle zone in cui questi lampioni stanno illuminando preservando il resto della fotografia quindi avrò una fotografia con dettagli bruciati che vanno a essere un po leniti dal fatto che il filtro va a diluire la luce artificiale che sta venendo catturata dal mio sensore personalmente lo trovo molto interessante e vi dirò di più lo trovo molto interessante anche in fotografia di interni perché potrei provare anzi lo farò fatemi sapere in un commento se vi interessa la prossima volta che faccio fotografia di interni sicuramente proverò a usare questo filtro perché sicuramente mi andrà a attenuare la radiazione luminosa gialla che spesso c'è in interni e quindi potrebbe aiutarmi a bilanciare la luce degli interni con la luce degli esterni andando anche ad attenuare i punti luce che spesso bruciano nella fotografia di interni quindi chi lo sa magari potrei riuscire a realizzare foto di interni senza fare bracketing lo scopriremo nei prossimi episodi e vi invito comunque a farvi sapere che cosa ne pensate e se l'argomento vi interessa vi ricordo anche se doveste essere interessati all'acquisto di un filtro come questo che knf concept ha aumentato il mio codice sconto dal 18 per cento a 20 per cento per cui se andate dal link in descrizione utilizzate il codice sconto avrete uno sconto del 20 per cento su questo filtro io una pensatina ce la farei a questo punto amici io vi saluto augurandovi buona luce buoni scatti notturni fatemi sapere se avete realizzato qualcosa di buono fatemi sapere se vi divertite realizzando fotografie notturne se volete altri consigli più in profondità su qualche aspetto trattato in questo video su cui non ho approfondito ci vediamo come sempre nei commenti e io vi do appuntamento come sempre al prossimo video